musica 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 ma sei una sei una una supposta siamo delle supposta io che cappello ho? tu non c'hai un cappello c'hai proprio una testa di cazzo no nel senso c'hai un cappello come banana ah ma quindi la telecamera sta sul cappello praticamente oddio è arrivato un pene dall'alto con quelle faccia però piccio gamer 89 è qui che c'è scritto non c'è un cazzo che illuminazione di merda c'ha no io ce l'ho però siete chiaramente beni oh mio dio un altro pen un'altra supposta eccolo eccomi ragazzi siete delle pastiglie ah quindi il capo è ciccio perchè c'ha il cappello diverso c'ha il cappello a cazzo ma io c'ho il cappello rosso si ma chi è lo zumi che già fa cacciara fermo fermo non toccare i panini fermi fermi come si prendono come si prendono le cose io premete contro il diventa diventa che succede come la password banana come si prendono le cose come si prendono le cose come si prendono le cose allora io prendo oh oh scusa è esplosito col suo è gioco il nero è arrivato gioco il nero come si prendono le cose non rompete le cose non rompete le cose arrivano i topi l'unica cosa che ho visto nel nostro gioco richiamami si addrizzato tutto qua a me ti si addrizzato tutto? come si addrizzato il braccio si ma vedete come si afferra la roba come si afferra che ti si addrizzato col destro ci sai che vuol dire? chi vuole? ti è ma come sei il busto? ma come fai a tenerlo premuto? col destro del mouse aaaaa aaaaa non funziona no ma la donna si fa cacare però eh ma anche questa prima ti a Dexter che ha scelto il gioco questa è next gen tanto prima o poi ci vediamo ma io non riesco a prendere gli hamburger vabbè io metto così aaaaa ragazzi se vi togliete dalla fava io ecco qui no no com'è vado a dire io devo andare a fanculo direttamente c'ho una sottierezza c'ho una sottierezza chi la vuole? piedestamburger pie piedestamburger che casino oh ma avete fatto un macello metti su la griglia metti su la griglia metti su la griglia vai c'ho l'inzala su tutte su la griglia a me volano cose per vedere dai regà ho un cerotto guarda giochiamo giochiamo vai 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 giochiamo tex erci sei oh rica c'è un braccio di qualcuno è rimasto è vero oh diega ha dimenticato il braccio imbecilli c'è di qualcuno ha dimenticato il braccio dove è? sta qui c'è il braccio di qualcuno porco demonio è tutto forchettico qualcuno io mi vedo tutti fermi nooo aprimi c'è un braccio ma siamo tutti fermi veramente sì siamo tutti fermi complimenti raga ottimi server a me è felice ma ciao oh sei cotto l'hamburger ma è pieno di topi i topi chissero un bravo io lo vedo che non c'è ma che 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 gioco di merda raga c'ho il topo c'ho il topo con l'hamburger in mano lo metto in friggitrice lo metto in friggitrice vieni topi dai vabbè possiamo fare anche Superman tasana no come hai fatto Molly tu ha i braccia e tesi cre somebody quelle due quali? unantisugh io raga perché di qua c'è un profilattico che guarda male un hamburger qua venite di qua Guarda la prima immagine E' chiaramente un profilattico che guarda male l'hamburger Quello è un dildo E' chiaramente un dildo E' un profilattico Io direi di fappare sopra questa immagine Guarda quanti fappano qua sopra Ma no Ma che è sta merda Io voglio fare questa Facciamo l'hamburger più grosso Ma se non riusciamo neanche a muovere C'è il bitframe di Frappso sopra l'alto a destra Ragazzi qua ci sono Al tavolo 1 vogliono Un doppio cheeseburger E vogliono un hamburger normale Con insalata e pomodoro Ma in strada c'è gente Signori Venite a mangiare dal Mac Youtubers Ma solamente io ho notato Che Sinergo e Apu De Be Back Theory Sinergo Sinergo Allora Sinergo hai sbagliato locale Che babbaro sta in fondo a destra Ok dai 2, 3, 4, 5 supposte Tutte bianche di cui una nera Sinengo Ciao 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 jd